Per iniziare con il video ragazzi però vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link per andare sul sito di Eneba Mi raccomando usate il mio codice cecchinato per ulteriore sconto e come potete vedere ci sono tutti i cosmetici, i codici di Fortnite, i bundle, tutto a prezzo scontato Basta cercare Fortnite sul sito di Eneba e vi appare tutto Usate mi raccomando il mio codice sappiate solo che ovviamente una volta comprato l'oggetto vi verrà mandato il codice del vostro acquisto anche degli altri videogiochi tramite email Potrete ovviamente comprare con qualsiasi cosa quindi Paypal, carte di credito eccetera trovate tutti i link utili qua sotto in descrizione Ragazzi bentornati in questoissimo video, io sono cecchinato e oggi siamo qui in un video su Fortnite per andare a vedere ovviamente nuovissimi leak Evento finale, una skin gratis che avevano già dato i tempi e che potrebbe tornare con una nuova versione anche Adesso andiamo ovviamente a vedere il tutto insieme ovviamente anche allo shop di oggi Per iniziare solito like, iscrizione come al solito, link in descrizione anche al mio canale Telegram Dirigiamoci adesso però subito al negozio oggetti Oggi intanto è arrivata la nuova crew come possiamo vedere che c'è anche il pacchetto ovviamente legacy Quindi quello che con tot abbonamenti piano piano sblocchi ovviamente questo piccone che ha diverse varianti Potete vedere il tutto cliccando quella sezione lì è tornato il bundle di Rick e Morty Quindi con anche ovviamente il cetriolo che ovviamente se avrete già ottenuto il cetriolo talmente sfida Adesso come abbiamo visto nel video news di ieri avete comunque la scarmata gratis Se no ovviamente la dovete acquistare E attenzione perché è arrivato anche il primissimo bundle a tema inverno A tema natale come possiamo vedere con il crack shot insieme ovviamente anche alla sua controparte femminile E poi lo shop insomma con tutte le skin di calcio e la sezione che non esce da un anno e più Passiamo quindi subitissimo però adesso alle news La prima come possiamo vedere riguarda Mark Rain Che per chi non lo sapesse trapela una parola di solito poco prima dell'inizio di una nuova stagione E quella parola descrive secondo lui ovviamente la nuova season Che come possiamo vedere sul suo accanto twitter ha detto che a breve quindi probabilmente oggi o domani Potrebbe arrivare la sua parola che descriverà ovviamente diciamo la nuova stagione L'inizio ecco del nuovo capitolo E già che parliamo di evento vi ricordo ovviamente il 3 dicembre alle ore 22 e 5 Con la precisione ci sarà l'evento finale e vi ricordo anche nuovamente che già comunque dalle 8 grossomodo Quindi dalle 20 sarò in live ci guarderemo tutto l'evento finale insieme Poi ovviamente ci sarà anche dopo l'evento finale un momento dove andremo a vedere magari alcuni leaks Se sempre escono andiamo a rivedere le parti salienti insomma dell'evento finale Insomma andremo a vedere un po' di roba molto molto interessante E poi la mattina se tutto va bene dovremmo essere di nuovo in live a vedere i leaks per il capitolo 4 Che inizierà con quasi assoluta certezza verso le primissime ore del pomeriggio quindi 13-14 Poi ieri come vi ho già detto anche nello scorso video Alle ore 18 sono state svelate alcune skin come possiamo vedere Vi lascio già il bundle eccolo qui C'è Neymar, ci sono skin già uscite nello shop come Lebron James C'è anche la skin Starter, c'è la skin di The Grap Insomma tutte queste skin dovrebbero costare l'una 1200 bucks Ma se volete prenderle tutte quante ci sarà il bundle a prezzo scontato Quindi potrete prenderle a meno vivax E saranno disponibili nel Nekot Segetti esattamente al cambio dello shop di questa notte Quindi domani 2 dicembre avremo questo bundle Che tra altre cose tutte queste skin hanno anche un'altra variante Che anziché essere nero e verde è bianco-verde Quindi hanno una variante in più E già che parliamo di skin tra le altre cose Piccolo spoiler per il capitolo 4 Probabilmente durante la prima stagione potremo ricevere una nuova skin serie di icone In questo caso dovrebbe essere quella di Typical Gamer Che dovrebbe essere uno youtuber Che riceverà quindi la sua skin serie di icone nel capitolo 4 stagione 1 Passiamo all'ultima news per oggi Una news un po' segreta Un po' nascosta Che sicuramente non avrete sentito da nessuna parte Perché ripeto è un po' nascosta Si tratta di alcuni tweet botte risposta Che un personale dell'Epic Games e un utente normale di Twitter hanno fatto Che fanno pensare ad un ritorno e ad un arrivo di una skin gratuita Parliamo ovviamente di una skin che ai tempi era uscita Mi sembra in una delle prime stagioni al capitolo 2 Quando praticamente Apple ha deciso di rimuovere Fortnite da ovviamente l'Apple Store E quindi chiaramente sapete già tutta la storia dietro Gli utenti da ovviamente questo telefono dall'Apple Non hanno più potuto da allora giocare a Fortnite E se vi ricordate per chi c'era i tempi Se no vi rinfresco un attimo io la memoria In occasione di insomma questo diciamo evento possiamo chiamarlo In cui non era più disponibile Fortnite sull'Apple Store Avevano fatto un torneo nella quale facendo 8 punti mi sembra una roba del genere O giocando una partita adesso non ricordo proprio con precisione Però sono sicuro che si trattava di un torneo Tramite questo torneo comunque potevi ottenere tranquillamente una skin gratis Che era praticamente lo chiameremo uomo mela Una roba del genere Adesso non mi colo ovviamente il nome comunque vi metto l'immagine per farvi capire Bene fatta questa premessa Perché vi sto parlando di questa skin che ci avevano dato i tempi Perché potrebbe ragazzi tornare a gran sorpresa gratis di nuovo per gli utenti che non l'hanno ottenuta E tra le altre cose potrebbe arrivare una nuova variante Quindi che potrà essere ottenuta chiaramente anche da chi l'aveva insomma già presa questa skin ai tempi E ovviamente anche per chi insomma la deve ancora prendere Quindi avrà una variante in più in teoria Perché? Perché come possiamo vedere vi mostro innanzitutto come è iniziata la conversazione Tra quest'utente e un dipendente ovviamente di Epic Games Fernando su Twitter ha chiesto Se c'era la possibilità insomma di vedere di nuovo la skin dell'uomo mela Di nuovo ottenibile ok? Perché lui probabilmente se l'era persa Quindi ha chiesto se in futuro potrebbe essere di nuovo data gratis A chi non l'aveva presa precedentemente Al che risponde questo dipendente di Epic Games Che dice che tra parentesi fa parte del team artistico di Fortnite Quindi dovrebbe creare skin eccetera E dice vedremo il team artistico ha effettivamente disegnato due abiti Sul tema ovviamente della skin uomo mela noi lo chiamiamo Ed è uscito chiaramente solo il primo che è stato ottenuto chiaramente qualche annetto fa E poi scrive il tempo dirà cosa succede qui Tradotto un po' così però avete capito no? Quindi ha sottinteso questo dipendente di Epic Games Che molto probabilmente potrebbe non solo tornare una variante nuova ottenibile per la skin Dell'uomo mela Ma potrebbe tornare effettivamente proprio la skin Che avevamo ottenuto ai tempi Di nuovo disponibile per chi non l'aveva presa in passato Fatemi sapere cosa ne pensate Voi l'avevate già ottenuta questa skin ai tempi O la dovete ancora ottenere? In tal caso la vorreste rivedere Certo che se ritornasse chiaramente perde diciamo tutta quella sua rarità Che ovviamente attualmente detiene Perché comunque non esce da più di un anno Quindi comunque ha acquisito anche abbastanza rarità come skin Anche perché se non erro La potevi ottenere solo forse da Apple Quindi veramente comunque tutto sommato in pochi utenti l'hanno ottenuta Fatemi sapere cosa ne pensate Noi ci salutiamo e ci vediamo domani alle ore 16 Per il penultimo giorno del capitolo 3 e della stagione 4 Perché poi ovviamente passeremo nel nuovo capitolo Ci vediamo domani Mi raccomando like e iscrizione